Che cosa bellissima, uno spot promozionale per la Puglia fatta da un pugliese, da uno che ha fatto sempre i film in Puglia. Mi sembra una storia d'amore pazzesca, incredibile, per cui è una cosa bellissima. Ti presento un amico pregamasco del lago. Ho scoperto dei posti della Puglia che pure ho girato in lungo e largo prima da pugliese, poi da cineasta perché sono venuto a girare tante volte in Puglia, oppure questa volta ancora ho visto posti, spazi, rocche, abbazie, luoghi che non avevo mai visitato. Questa è una terra splendida da visitare. Grazie.